Pio IX fu l'ultimo Papa sovrano dello Stato della Chiesa e questo di per sé già costituisce un aspetto straordinario della sua vita e della storia della Chiesa italiana. Tuttavia non fu un strenuo difensore delle sue prerogative, cercò in qualche modo di adattarsi ai tempi che stavano avanzando. Dopo i moti del 1848 diede vita a una Costituzione e a una forma di governo che in qualche modo permise allo Stato Pontificio di stare sulla scena internazionale con un principio di modernità, soprattutto sulla spinta dei francesi e delle altre potenze europee. Ma fu una lotta vana perché lentamente lo Stato Pontificio cominciò a perdere territori e si ridusse sostanzialmente al solo Lazio. È durante il suo pontificato che si apre la prima grande controversia fra la Chiesa e lo Stato italiano che poi si chiuse soltanto nella prima metà del Novecento con il Concordato. Anche la sua fine fu molto travagliata, tanto che il suo corpo diretto alla sepoltura fu oggetto di un tentativo di attentato e di contrazione della Salma, un'ultima ingiuria che per fortuna gli venne risparmiata.